Consiglio regionale all'Aquila con tutte le precauzioni per l'emergenza coronavirus. I partecipanti hanno dovuto compilare un modulo all'ingresso nella parte riservata alla stampa più di un metro di distanza uno dall'altro con controlli rigidi ed è stato proprio il governatore della regione Abruzzo, Marco Marsilio, in apertura di seduta a riferire sulla questione coronavirus. In Abruzzo ci sono 81 posti letto a malattie infettive nelle quattro ASL e ha dato il governatore un riepilogo sui contagi. La regione monitora e tiene sotto controllo tutte le evoluzioni e tutti i casi. Ci sono stati peraltro diversi protocolli di intesa per incentivare i rapporti tra regione e ospedali compreso con i medici di famiglia, riunioni continue con un tavolo sempre attivo. E il governatore ha voluto chiarire anche il montaggio di tende di protezione civile fuori all'ospedale dell'Aquila, ad esempio, solo una precauzione per evitare, in caso di sospetti, l'ingresso al pronto soccorso tradizionale e fare lì un primo triage. Sulla questione politica in apertura di seduta, il Movimento 5 Stelle ha dato vita ad una singolare protesta indossando delle t-shirt a tema, ma non coronavirus. Poltrone virus, c'era scritto. Beh, la sindrome che affligge questa maggioranza di centrodestra, sin dall'insediamento, perché da un anno questa maggioranza parla soltanto di poltrone, di aumenti di stipendi dei dirigenti, di aumenti di stipendi del sottosegretario, dell'eventuale istituzione di un sottosegretario. Insomma, è un'asta a rialzo per le poltrone, quando invece le reali esigenze dei cittadini abruzzesi sono altre, cioè quello che ci chiedono sempre, tutto il giorno, tutti i giorni. Una sanità che funzioni, un trasporto pubblico locale che funzioni, la lotta al dissesto idrogeologico, le strade che sono ridotte, come sappiamo, ad un colabrodo, le coste che vengono di fatto erose dal mare. Insomma, le esigenze sono altre. Questa maggioranza si occupa solo di poltrone. Grazie. Grazie.